ben ritrovati a quarta di copertina come sempre la nostra rubrica dedicata ad autori di vario genere stavolta spazia perché abbiamo con noi una giovane editrice che è anche un ottimo regista e impresario teatrale da anni nota sul territorio torinese canavesano e alice fumero qui da noi oggi non per parlare di suoi progetti teatrali ma di un'avventura tutta nuova nata tra 2019 2020 che sta muovendo i suoi primi passi ma sta muovendo veramente di corsa conosceremo con alice fumero la casa editrice lemus fondata con giovanni caprioli una casa editrice nuova pimpante che nel giro di neanche due anni ha già prodotto ben cinque libri e numerose iniziative di cui parleremo in questa puntata di quarta di copertina io approfitto come sempre in apertura per ricordarvi che potete venire a trovarci contattandomi alla mail deborabocchiardo chiocciola gmail.com e l'ingresso consentito con mascherina e igienizzazione delle mani poi tra me l'ospite c'è un plexiglass di separazione quindi il tutto avviene in piena sicurezza anti covid alice fumero iniziamo proprio dall'inizio perché alle tue spalle abbiamo il logo una cicala già un animale un po particolare ci ricorda il bel tempo l'estate il frenire quindi ha già dentro di sé tutta una serie di musicalità un po particolari cominciamo però dall'inizio la casa editrice lemus cosa significa questo nome e come è nato questo bel progetto dedicato alla storia della musica allora prima di tutto grazie per la bellissima presentazione e per essere qua presenti lemus è nata in realtà è un progetto che è durato qualche anno prima di prendere veramente forma ed è nato in collaborazione appunto di mio socio nonché miglior amico che giovanni caprioli anzi va detto che forse l'idea è veramente più sua che che mia tutte e due siamo laureati in musicologia a cremona e tutte e due dopo la laurea abbiamo preso strade diverse io mi sono occupata di teatro di organizzazioni di eventi culturali mentre giovanni diventato un freelance redattore editor e quindi quando ci siamo rincontrati quando uno decide di fare musicologia alla fine è un grande amore che non si dimentica mai abbiamo deciso di riunire i nostri saperi noi siamo molto complementari da questo punto di vista e di creare una piccola e giovane come dici tu pimpante casa editrice specializzata in libri che si occupano di musica e di musicologia con un occhio assolutamente non specialistico ma proprio l'idea questa è un po la mia vocazione personale alla divulgazione quindi ad arrivare a più persone possibili e quindi dopo tanti brainstorming tante idee siamo nati nel 10 settembre del 2019 e il nome lemus sta per letterature musicali quindi tutto ciò che ha a che fare con la musica scritta non spartiti e proprio parole viene presa in considerazione da noi e devo dire che giovanni poi ha avuto questa idea geniale della cicala e l'ha presa da una leggenda antica in cui c'erano questi due personaggi da questi nomi un po particolari sono è un uomo di locri e aristone di reggio che erano questi due personaggi che dovevano fare una sfida musicale e litigavano su chi doveva iniziare a cantare per primo e uno dice all'altro precisamente è un uomo cosa non puoi iniziare tu perché tu che sei di reggio ci sono le cicale che non sanno neanche cantare da quanto siete a musicali prima durante questa sfida è un uomo si rompe proprio una corda della lira e arriva una cicala da locri a sostituire questa corda rotta e quindi la nostra idea è che lemus è la cicala che copre un buco di comunicazione tra il mondo musicale classico non solo e il grande pubblico quindi l'idea della cicale è quella di essere un sostituto di cantare al posto di un vuoto che c'è che si è creato quindi libri che sono adatti a un vasto pubblico a chi ama e conosce la musica ma anche a chi magari vuole conoscerla e non si è mai molto avvicinato a questo tipo di argomento per adesso i libri che abbiamo pubblicato sono accessibili abbastanza a tutti avremo poi una collana più specialistica collaborando con musicologi che pubblicheranno le loro ricerche che ovviamente uno poi pensa la musica sia sempre facile per tutti l'ascoltano la musicologia è un po come leggere in realtà un testo di fisica però ci sarà la collana adatta per l'accademia ecco per adesso i cinque libri che abbiamo pubblicato sono adatti direi un po tutti curiosi cominciamo a conoscere queste prime cinque creature che sono grossomodo contemporanee mi dicevi cominciamo dal dal primo volume lo vedete tra l'altro con grafiche di copertina assolutamente accattivanti uno stile molto informale ma molto curato e molto elegante e clara schumann e joannes brams lettere 1853 1896 volume primo sì questa è la prima creatura e come tutti le prime creature c'è un affetto particolare e giovanni sarà contentissimo di sapere che le copertine ti piacciono io che sono più tradizionalista le copertine pop ho sempre paura che siano troppo in realtà mi ci sono affezionata molto anch'io questo primo volume è un progetto virtuoso perché nasce con la collaborazione anche del liceo botta di vrea allora forse non tutti sanno che clara vick schumann era la moglie di robert schumann il grande compositore e in realtà poi lei è stata una grandissima pianista forse la più grande pianista della storia ed è anche la protagonista della sopopera della storia musicale perché si chiede sempre se clara schumann abbia avuto una storia con il più giovane e joannes brams è una cosa che tra noi che ci occupiamo di questa cosa ci scherziamo sempre ci sarà stata non ci sarà stata anche perché clara e joannes brams hanno bruciato la maggior parte delle loro lettere quindi pare che tutta la parte più compromettente più hot più hot sia stata cancellata adesso fa ridere dire questa cosa dicendo che abbiano bruciato tutto quando abbiamo un volume e un secondo volume già in lavorazione perché in realtà si scrivevano tantissimo sono oltre 700 lettere che sono rimaste sono state salvate dal fuoco dalla prima figlia di clara quindi hanno cercato di bruciarle ma non ci sono riusciti sono riusciti per fortuna perché questa è una testimonianza straordinaria non solo di due personaggi che hanno fatto la storia della musica ma anche di un periodo storico musicale che è rimasto unico nel nel tempo questa è la prima traduzione italiana in assoluto di queste lettere queste lettere sono veramente in tedesco in realtà questo volume è stato tradotto dalla versione inglese che era stata curata dalla figlia di clara e dal traduttore e è stato consegnato alle ragazze di liceo botta che hanno fatto la prima traduzione sotto la guida della gentilissima e straordinaria professoressa carezio che poi ha messo insieme il tutto poi ha ridato noi il testi noi l'abbiamo rimessi nuovo a posto abbiamo aggiunto un apparato di note per spiegare tutti i personaggi che vengono nominati e oltre alle note hanno fatto un appendice e c'è dieci pagine di nomi di personaggi che nessuno sa chi sono ma che erano fondamentali nella vita musicale dell'epoca e si riesce a ricostruire la vita umana di una donna come clara schumann che è rimasta vedova a 36 anni con otto figli a carico sette figli a carico l'aveva perso e sempre in giro per tournée e stiamo parlando di un'epoca in cui si andava in carrozza e quindi c'è tutte le problematiche sia estetiche musicali di portare avanti il pensiero del marito ma anche di gestire la casa i figli figli malati figli con problemi anche legati alla guerra e Brahms si scopre il lato più umano di Brahms noi immaginiamo Brahms con quelle sinfonie imponenti in realtà era un ragazzo fragile all'inizio che ha dovuto avere anche un po' la guida di Clara che era una donna che gestiva anche l'economia di Brahms e quindi si ricostruisce un quadro pazzesco è un libro che tra l'altro vende tanto perché questo veramente non hai bisogno di capire molto di musica però se sei affascinato dall'epoca e dalle dinamiche culturali questo è un libro perfetto per avvicinarsi al romanticismo tedesco e anche al romanticismo vero e proprio perché mi sembra di capire c'è anche una vicenda umana e sentimentale importante in realtà dalle lettere, adesso non voglio fare spoiler, secondo me non c'è stato niente di spinto ma assolutamente un'amicizia che è durata tutta la vita si sono uniti in una collaborazione a distanza, il motivo per cui si sono scritti perché non si vedevano così tanto ed è stato fondamentale come supporto reciproco tant'è che va detto che Brahms è morto praticamente qualche mese dopo la morte di Clara forse anche perché aveva preso freddo al funerale di Clara era già malaticcio però sicuramente il dolore è stato immenso decisivo conosciamo un'altra opera di Luca Boero Rida senza dare nell'occhio e rixati tra umorismo e ironia già il titolo è un programma questo è il nostro primo libro con autore esterno perché mentre Clara e Brahms è stato curato da me perché io ho una passione per Clara questo invece è stato scritto da un musicologo o meglio anche lui un laureato in musicologia che adesso si occupa di teatro e di attività musicale dal vivo è un dottorando che si è appunto specializzato la sua passione era ed è Eric Satie e questo libro, il titolo è proprio una frase di Satie perché va detto che Satie è sicuramente un compositore che quasi tutti conoscono come il grande eccentrico era quello che si vestiva sempre uguale sempre con la bombetta quando è morto hanno trovato nel suo armadio una collezione di ombrelli che non usava mai era vestito sempre nello stesso modo e il famoso eccentrico e lo si conosce per le opere tendenzialmente di Ghinopedi, Legnosienne quelle musiche si usano ahimè come sottofondo perché sono molto particolari creano l'andosfera esatto in realtà Eric Satie ha una poetica straordinariamente più complessa appunto che sta tra ironia e umorismo che Luca Boero spiega molto bene all'interno del suo libro che sembrano sinonimi ma non lo sono assolutamente io non voglio sostituirmi all'autore quindi io posso solo dire perché Lemus ha scelto di pubblicare questo libro che sono tre le motivazioni la prima è che era da 50 anni che non veniva pubblicato niente in italiano su Eric Satie la seconda è il contenuto che è proprio l'aspetto di Satie che meno si conosce e quindi tutto il suo citazionismo le sue opere meno conosciute vengono analizzate e contestualizzate e il terzo che non è meno importante è il taglio che Luca ha dato che è quello appunto di riuscire a parlare contemporaneamente a un pubblico specializzato perché va benissimo per tutti i musicologi ma anche un pubblico che ne sa di meno che dopo la lettura di questo libro potrà ascoltare a S.T. in un modo completamente diverso andiamo avanti con un altro libro con un'altra copertina molto particolare I due volti di Beethoven mi venirebbe da dire perché è biografia critica di Beethoven di cosa parla? I due volti perché è la biografia scritta da uno dei suoi più grandi ammiratori che era Vincent Dindy Vincent Dindy è un compositore molto controverso che ha deciso di riscrivere la sua biografia di Beethoven dal suo punto di vista per certi versi alcune cose sono anche opinabili questo libro, anche questa è la prima traduzione italiana dai cento anni della sua pubblicazione è stata curata e tradotta da Giovanni Caprioli che ha fatto un lavoro certosino nella ricerca di comprendere anche tutti i riferimenti che Dindy dava per scontato perché dopo cento anni bisogna ricostruire anche certe cose ha la prefazione di una nostra compagna di musicologia che è diventato professore associato a Cremona e che è la professoressa Federica Rovelli ed è uno sguardo diverso è vero che su Beethoven, soprattutto l'anno scorso che erano i 250 anni dell'anniversario di Beethoven è stato pubblicato di tutto io sono della scuola per cui non si smette mai di parlare abbastanza di Beethoven in questo caso è veramente uno sguardo diverso dato anche da un musicista perché Vincent Dindy era un compositore e quindi sicuramente dà uno spaccato innovativo conosciamo un'altra opera la grande musica tedesca del XVIII secolo questo è un libro di storia e di filosofia se possiamo dire Willem Diltai è stato uno dei massimi esponenti del post Hegel è il fondatore del storicismo e nella grandissima mole di opere filosofiche che ha scritto c'è una parte che è rimasta non pubblicata fino alla sua morte legata alla musica del XVIII secolo tedesca e quindi stiamo parlando di grandi compositori come Bach, come Beethoven, Mozart e quindi è uno sguardo di un filosofo su un momento storico della musica occidentale che rimane forse uno degli apici della cultura umana e quindi abbiamo voluto sotto la spinta del traduttore e curatore che è Francesco Ragni che è un ricercatore dell'Università 3 di Roma a pubblicare questa sezione di testo tutta esclusivamente dedicata alla musica che dà un taglio sia musicale ma anche filosofico all'argomento Ecco, ho lasciato per ultimo il testamento di Beethoven perché è quello che ti riguarda più da vicino perché è un'opera curata direttamente da te dove si ritrova appunto anche questa tua grande passione per Beethoven Sì, questo è uno spettacolo teatrale quindi questa è la versione scritta di un vero e proprio copione abbiamo deciso di pubblicarlo un po' perché è un regalo che mi sono fatta di vedere un testo che è andato in scena in Canavese già un paio di volte su carta e poi soprattutto abbiamo deciso di trasformarlo in un podcast quindi questo spettacolo teatrale che dura un'oretta è ascoltabile in versione podcast e qua ci tengo a dire che per recitare certi spettacoli cioè quelli che scrivo io ci vogliono attori capaci di sia recitare sia fare divulgazione quindi io pubblicamente qua voglio ringraziare Omar Ramero e Giulia Brenna che si prestano da anni a darmi la voce a questi spettacoli che nati in realtà in un contesto non ancora lemus questo spettacolo è nato con un altro titolo all'interno dell'altra mia vita quella che citavi prima di attività teatrale all'interno di un'associazione che si occupa di divulgazione scientifica l'associazione Kite però Kite ha poi regalato visto il tema questo spettacolo a Lemus che ne ha confezionato un nuovo prodotto essendo che nasce all'interno dell'associazione Kite qui c'è Beethoven e c'è anche un po' di scienza e quindi c'è le malattie di Beethoven la spiegazione della morte di Beethoven e soprattutto c'è una tentativa di raccontare il Beethoven più umano attraverso un'opera particolare che è la Nona Sinfonia che molti musicologi vedono quasi come il testamento delle sue ideali umani anche religiosi e quindi il ritmo dello spettacolo è dato proprio dai quattro movimenti della sinfonia e attraverso la ricostruzione del presente e del passato si ricostruisce un po' la vita di Beethoven lo spettacolo infatti è diviso in quattro scene due nel passato con i protagonisti sono proprio i protagonisti il nipote di Beethoven e sua cognata e due nel presente in cui c'è un direttore d'orchestra che viene intervistato da una giornalista e il richiamo tra passato e presente si spera ridia l'immagine di Beethoven ecco cinque libri in meno di due anni quindi un grande impegno e già c'è qualcos'altro come dire in gestazione ah sì in gestazione sì sicuramente il nostro obiettivo sarebbe stato essere molto più regolari cioè pubblicare ogni due mesi ad esempio però i tempi degli autori i tempi nostri personalmente anche perché sia io che Giovanni abbiamo anche altri lavori quindi ci destreggiamo nel tempo abbiamo comunque già altri cinque volumi in cantiere il primo ovviamente il secondo volume delle lettere tra Clara e Brahms che speriamo di riuscire a pubblicare a settembre magari per il compleanno di Clara che è il 13 settembre abbiamo in cantiere un libro che guarda più la musica moderna quindi al progressive rock o meglio all'influenza della musica barocca nel progressive rock abbiamo un libro sulle trascrizioni organistiche per Bach e un'altra chicca italiana mai stata tradotta che è la biografia autobiografia di tal Carl Cerni che forse a molti non diranno molto che poi molti dicono Cerni in realtà si dice Cerni che tutti i pianisti in erba odiano perché sono gli studi e è stato un allievo di Beethoven un grande didatta e nella sua autobiografia che verrà appunto tradotta in italiano per la prima volta si ricostruirà anche questo rapporto tra allievo e insegnante ti faccio due domande diverse prima di dimenticarcele innanzitutto come si può fare per ascoltare i podcast proprio del testamento di Beethoven allora si può andare sul sito che andrà adesso in sovrappressione oppure si può andare su Spotify su Spreaker basta scrivere l'Emus Edizioni o il testamento di Beethoven e si trovano anche lì ok altra domanda tecnica dove si trovano questi libri? noi pubblichiamo on demand ed è un motivo tra virgolette anche di vanto perché vuol dire che i nostri libri non usciranno mai dal catalogo non ci sarà mai l'esaurimento delle copie e quindi si troveranno su Amazon e noi poi distribuiamo alle nostre librerie amiche librerie amiche che si trovano che si possono vedere nell'elenco sul nostro sito e sono quelle prettamente musicali quindi copriamo Torino Bologna Roma pian pianino ci stiamo ampliando andremo a finire anche a Bari a Padova e poi giocando in casa anche nelle librerie Galleria del Libro di Ivrea e Mondadori sempre di Ivrea si trovano i nostri libri una cosa a cui tengo particolarmente a sottolineare perché è una caratteristica che non tutte le case editrici musicali hanno è che tutti i nostri libri sono anche in versione ebook e quindi sono in versione sia per Kindle che per l'altro che non mi ricordo mai come si chiami e quindi sono scaricabili su tutti i siti in cui si possono scaricare in ebook conosciamo meglio le attività collaterali a quella di casa editrice che riguardano l'EMUS quindi mi parlavi di un programma radiofonico sì, questo è un esperimento di quest'anno nel senso che l'EMUS Edizioni è il marchio editoriale di un'associazione cioè l'EMUS è un'associazione non a scopo di lucro che ha proprio l'obiettivo di fare divulgazione musicale ovviamente è nata un mese prima del scoppio della pandemia e avevamo in mente un sacco di spettacoli, di presentazioni, concerti tutte cose che teniamo nel cassetto nella speranza di poterle fare e allora stando a casa è nata la possibilità di tenere un programma radiofonico dedicato alla scoperta della musica classica su una web radio www.radiosvolta.it una radio della Tuscia che ha comunque un buon ascolto ha oltre 40.000 ascoltatori e è stato un esperimento non pensavamo che andassi così bene e invece abbiamo scoperto che abbiamo degli ottimi ascolti andiamo in onda tutte le domeniche dalle 12 alle 13 il programma si intitola le musiche della cicala ovviamente e poi prossimo sono tutte puntate che si possono riascoltare in formato podcast sia sul sito di Radio Svolta che su Deezer, Spotify e Spreaker ed è un'esperienza molto divertente io mi diverto molto a registrare queste cose e a far conoscere musiche sempre che magari non tutti conoscono l'idea è stata per adesso che ogni puntata è a tema e quindi ci concentriamo su un tema che è in realtà un pretesto per raccontare storie e far ascoltare musica spettacoli ahimè il coronavirus non aiuta però diamo un appuntamento alla prossima iniziativa allora il testamento di Beethoven siamo riusciti a farlo a ottobre alla villa del liceo musicale di Rivarolo quindi siamo riusciti a farne a meno uno e siamo molto contenti stiamo lavorando al secondo podcast nonché spettacolo teatrale tutto dedicato a Puccini Puccini è la relazione con Giacosa e quindi appena si apriranno le porte andremo in scena anche con quello e pubblicheremo anche quello in formato podcast e poi l'idea è di fare qualcosa di musica dal vivo magari un po' particolare legato anche alle musiche popolari al folklore per distinguerci anche un po' dalle altre tante attività che ci sono molto bella e originale l'attività con gli ebook di copioni teatrali vuoi dirci qualcosa in più? questo è nato ancora prima di Lemus è una collaborazione che abbiamo con il museo Luigi Illica di Castellarquato che la biblioteca di Castellarquato conservava delle edizioni del teatro di Luigi Illica non ancora pubblicati e quindi a titolo totalmente gratuito Giovanni li sta trasformando in ebook scaricabili gratuitamente che possono scaricare appunto sul nostro sito su quattro su cui stiamo lavorando due sono già stati pubblicati ed è un teatro tutto da riscoprire perché Luigi Illica aveva un'ironia e una sagacia che forse nella collaborazione con Giacosa non si perde ma che in realtà è un teatro che sarebbe da rifare e quindi siamo molto contenti di fare questa opera di riscoperta come avrai capito Lemus nasce proprio con la volontà di scavare nel passato e riscoprire cose che si sono dimenticate è proprio una nostra passione anche se l'occhio è sempre rivolto al futuro quindi siamo sempre in cerca di autori nuovi un po' ci cercano un po' li cerchiamo noi e un sogno sarebbe quello di aprire una collana dedicata alla narrativa ovviamente esclusivamente legata alla musica Ecco, io rimango in quest'ambito se qualcuno tra i nostri ascoltatori è interessato magari ha da qualche tempo un manoscritto nel cassetto come può fare per contattarvi per sottoporre il proprio libro alla propria ricerca alla vostra attenzione? Beh, è molto semplice basta andare sempre sul sito di Lemus che è www.lemusedizioni.com e c'è proprio la pagina dedicata a collabora con noi ovviamente deve assolutamente controllare che ci sia la musica come protagonista poi c'è il format per inviarci il manoscritto noi lo valuteremo e poi discuteremo insieme la fattibilità e come farlo Ecco, tu sei originaria di Ivrea e hai un forte legame comunque sul territorio canavesano rappresentato anche dalla bella collaborazione con il Teatro Giacosa di Ivrea dove curate i programmi di sala Sì, questa è una cosa che è nata quasi subito con il maestro Stefano Musso che è il direttore artistico della stagione e gli accordi rivelati che è la stagione cameristica che si svolge ogni anno covid permettendo al Teatro Giacosa e nonostante ogni concerto di Stefano sia anticipato da una lezione di musica del maestro Valentino ci ha chiesto di scrivere un programma di sala cartaceo che racconti non tanto l'opera che verrà eseguita ma la storia che ci sta intorno che è proprio quello che piace a noi raccontare il contesto e quindi non andiamo a analizzare che quello è il primo tema il secondo tema l'evoluzione ma raccontiamo come è nata l'opera in che contesto chi l'ha fatta e magari qualche curiosità Bene ancora uno sguardo agli eventi online Beh, questo siamo stati obbligati a farlo siamo stati molto fortunati che appena è uscito il libro su Eric Satie la Liberia Mamu di Milano ci ha invitato a partecipare al Festival Book City e abbiamo fatto la nostra prima presentazione online e alla fine abbiamo scoperto che non era così male perché anche online si riesce a creare un po' di sinergia nel caso poi di Eric Satie la prefazione è stata scritta da Elisabetta Piras che è una carissima amica e musicologa pianista che ha eseguito anche dei brani di Satie proprio per l'occasione ed è stata quindi un'occasione per stare insieme la verità il segreto di Lemus ad oggi è veramente la passione e l'amicizia se non ci fosse questo tra me e Giovanni non riusciremmo a lavorare quanto lavoriamo perché facciamo assolutamente gli straordinari e non avremmo il divertimento che abbiamo ecco passione e divertimento sono la base di un progetto perché soltanto con passione e divertimento si può puntare a un obiettivo o portare avanti un progetto così ambizioso come Lemus facciamo a te e a Giovanni Caprioli tantissimi auguri vi aspettiamo qui con nuove opere da presentare il tempo a nostra disposizione come sempre volge al termine io ricordo a tutti che potete partecipare a Quarta di Copertina scrivendo a deborabocchiardo chiocciola gmail.com per venire in studio con mascherina e poi registrare con un plexiglass di separazione quindi in totale sicurezza vi aspettiamo numerosi per parlare di libri di narrativa ma anche come avete visto oggi per parlare di musica di arte di cataloghi di mostre di tutto ciò che riguarda un progetto editoriale quindi un volume da presentare tu prima parlavi degli studenti del bot rivolgiamo un invito anche ai tanti insegnanti che magari online o in presenza in questi anni in questi ultimi periodi hanno curato bei progetti con i ragazzi se avete piacere potete partecipare chiaramente visto lo spazio ridotto bisognerà optare per un portavoce massimo due ma insomma noi vi aspettiamo qui a Obiettivo News a Rivarolo Caravese tutte le puntate di Quarta di Copertina le trovate su tutti i social collegati a Obiettivo News sul canale YouTube iscrivetevi per essere sempre aggiornati su nuovi incontri e nuove interviste io ringrazio Alice Fumero per essere stata con noi e le chiedo veramente di tornare per raccontarci ancora con lo stesso entusiasmo i prossimi successi della casa editrice Lemus Alice salutiamo i nostri ascoltatori ricordando i riferimenti della casa editrice sia per essere al corrente dei vostri numerosi bellissimi progetti sia per magari inviarvi nuove opere da realizzare allora è molto semplice www.lemusedizioni.com è il sito in cui trovate tutto anche i podcast del testamento di Beethoven della radio e poi se volete potete seguire le notizie flash sulla nostra pagina Facebook e magari mettete anche mi piace e seguiteci così siete sempre aggiornati grazie ancora a tutti voi per l'ospitalità è stato molto divertente grazie Alice e ti aspettiamo per nuove idee nuove proposte grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti e alle prossime puntate grazie a tutti a tutti i nostri grazie a tutti i nostri